Nasce in provincia di Enna in Sena la Conf Commercio per il settore turistico, il Conf Turismo. Spiegateci di cosa si tratta. Buongiorno a tutti. Conf Commercio come sempre è sensibile ai problemi e alle difficoltà della provincia in modo particolare. Fa nascere e nasce assieme a un gruppo di amici la Conf Turismo che mancava come sindacato della Conf Commercio e nasce proprio in questi giorni. E' un'attività che mancava alla nostra provincia ma soprattutto mancava un gruppo di persone volonterose e con tanta e tanta buona volontà di portare all'esterno della nostra piccola provincia tutti i beni e tutte le bellezze che esistono fra di noi. Abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere, già conoscevamo io in modo particolare l'amico Francesco che fra qualche minuto vi presenterò e che lui, grazie a lui, alla spinta che ci ha dato, alla gioia che abbiamo avuto anche all'interno del nostro direttivo di far rinascere questa nuova realtà che adesso penso che potrà partire bene e potrà portare sicuramente, lo farà, tanti benefici alla nostra provincia e non solo. Anche perché è un sindacato che parte qua in provincia di Enna ma già esiste in altre realtà della Sicilia ma sarà un sindacato che si occuperà della nostra provincia, di tutta la nostra regione ma soprattutto sarà una cosa interregionale dove gli accordi che già presi dal nostro commissario Francesco Lagreca che adesso sarà lui stesso a presentarvi il progetto e dei contatti già presi anche a carattere in Calabria, Puglia e in altre regioni dell'Italia dove il suo sindacato farà sicuramente tanto ma tanto bene. Sono veramente lusingato ed onorato di entrare a far parte di questa squadra e giustamente doveroso da parte mia ringraziare innanzitutto i vertici provinciali di Commercio e gli amici della delegazione di Unicosia, in primis il presidente Antonio Insinga e il presidente vicario Salvatore Catania e dicevo sono orgoglioso, sono lusingato e sono onorato di entrare a far parte di questa nuova realtà e che se ne dica questo è un periodo sicuramente un tantino dolente però nella nostra provincia, il nostro territorio che è sempre stato ai margini della promozione turistica a livello regionale e nazionale, oggi ci mette nelle condizioni di poter operare in maniera proficua per la promozione appunto del territorio provinciale. Come diceva il presidente vicario Salvatore Catania io ho già in etinere dei progetti che sono oltre che dei progetti andiamo oltre alla progettazione o appunto dicevo in etineri della progettualità con altre regioni del sud Italia precisamente con la Puglia e la Campania dove abbiamo fatto questa triangolazione a sud appunto è chiamata triangola sud le tre valli dove appunto abbiamo messo in essere una sorta di rete chiamiamola così, che andremmo ad ufficializzare da qui a qualche settimana e ci sono già un cospicuo numero di piccoli imprenditori imprenditori di eccellenze siciliane ed eccellenze in particolar modo dell'entroterra siciliano e la parte predominante la fa sicuramente la provincia di Enna ho accolto favorevolmente diciamo il parere e gli umori di un turo per etoro, un turo per etoro pugliese che mi ha immediatamente avvallato questo progetto ed inoltre proprio ieri ho avuto modo di conoscere la realtà, una realtà, una bella realtà che è quella del Borgo dei Borghi di Petralia Soprana e sono entrati anche loro in questa progettualità come diceva giustamente Salvatore Catania il progetto non dovrà sicuramente rimanere relegato in ambito provinciale ma si dovrà allargare in ambito regionale e in ambito interregionale Cosa dire? Io volevo fare gli auguri più grandi a Ciccio Ciccio la greca, mi permetto di chiamarlo Ciccio perché per me è sempre Ciccio la greca Volevo fare un ringraziamento a livello provinciale sia a Salvatore Catania ma non volevo dimenticare il presidente Presti Filippo e il direttore che si è impegnato tantissimo per questa operazione che crede in questa operazione che è Gianluca Speranza Cosa dire di più? Abbiamo domani una bellissima inaugurazione che dopo secoli, non diciamo secoli, ma sono passati 40 anni riusciremo a inaugurare finalmente questi 7 chilometri dalla nord-sud Cosa migliore che poteva essere oggi questa notizia di confoturismo perché riusciamo come provincia di Enna a allargarci verso il mare che non è poco quindi va fatto un bocchillupa in più a Francesco per questa nuova organizzazione noi come delegazione di Nicosia ma anche come provinciale gli saremo al suo fianco per cercare di oggi più che mai crediamo, infatti questi sono i risultati che il confocommercio Enna sta portando avanti da tanto tempo questi sono i risultati che crediamo che il commercio può ripartire grazie al turismo quindi noi ci siamo impegnati per questa cosa abbiamo voluto formare questa squadra di confoturismo che Francesco tra un po' la formerà perché per ora è commissario ma formerà la sua squadra per far partire il turismo nella nostra provincia perché siamo convinti che il commercio può partire grazie al turismo e noi ci siamo in prima linea da tanti anni e continuiamo a esserlo questi sono i risultati grazie a tutti grazie a tutti